La ripartenza è prossima e la discussione aveva spaccato i diversi attori coinvolti. Dall'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia ci si è battuti per ottenere linee guida a comuni e condivise regole univoche, aveva precisato il presidente Anci Antonio De Caro, muovendo la riflessione su un profondo senso politico, quello di una riapertura che non può avvenire a velocità e con modalità differenti. In videoconferenza, governo, regioni e comuni hanno infine raggiunto un'intesa di massima su un documento con le linee guida per la riapertura. Nei ristoranti e parrucchieri si privilegia l'accesso tramite prenotazione negli stessi, oltre che nei negozi e uffici aperti al pubblico, è obbligatoria la misurazione della temperatura e accesso vietato oltre 37 gradi e mezzo. Nei ristoranti verranno resi disponibili prodotti igienizzanti per i clienti, distanza del meno un metro, privilegiare l'utilizzo di spazi esterni. Il personale deve utilizzare la mascherina, così come i clienti quando non seduti al tavolo. Almeno un metro di separazione tra i clienti anche nei parrucchieri e centri benessere, l'operatore deve indossare una mascherina FFP2, vietati sauna, bagno turco, idromassaggio. Nei negozi di abbigliamento i clienti dovranno invece indossare mascherina e guanti in monouso, accessi scaglionati per mercati e fiere, utilizzo di mascherine è obbligatorio. Nelle piscine massimo una persona ogni 7 metri quadri nella vasca, i propri abiti vanno riposti in borsa, fissati, i limiti minimi del cloro. Prima dell'ingresso in piscina è obbligo di doccia saponata e ancora 2 metri durante l'attività fisica in palestra, obbligo di assicurare la disinfezione delle macchine usate, limitare poi l'utilizzo di ascensori, disinfettare eventuali audioguide nei musei. Resta inteso, si legge nel documento, che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate anche in senso più restrittivo.